Ce la faccio, ce la faccio! Se pensate che l'auto diesel di serie più potente di sempre possa essere una coupé o una berlina, beh, vi sbagliate di grosso, ma di grosso. Prima di dirvi qual è, ci tengo a ribadire il concetto di serie. Non iniziate ad elencare nei commenti auto modificate o prodotte in un solo esemplare. Ve lo ridico, di serie. Detto questo, il motore diesel più potente mai prodotto per un'auto di serie è il 6 litri V12 TDI del gruppo Volkswagen, un mostro in grado di erogare 500 cavalli e 1000 Nm di coppia. E indovinate su quale auto è stato montato? Beh, su questa. Un Audi Q7 da 2.7 tonnellate, che scatta da 0 a 100 in 5.5 secondi è una velocità massima limitata di 250 km orari, in grado di schiacciare ai sedili i sette possibili occupanti di questo scuolabus, eh, scusate, intendevo di questo SUV. Con una tenuta in curva... Non mi viene da ridere. Immaginate di essere gli pneumatici di quest'auto, lì a cercare di tenere aggrappata all'asfalto questo pachiderma. Ma ce la faccio, ce la faccio! Oh, mettetevi nei panni dell'elettronica del veicolo. Capo, perdiamo aderenza sulla ruota posteriore destra. Capo, abbiamo le sospensioni sul lato sinistro a tampone. Capo, la ruota anteriore sinistra sta per bloccarsi. Capo, capo, capo! Che c'è? Nulla, siamo finiti in un fosso. Scherzi a parte, chi mi segue da più tempo sa che non amo i SUV cosiddetti sportivi. Li trovo inutili. E trovo inutile e oltremodo sprecato un motore del genere sotto un'auto del genere. Ma si sa, la motivazione più importante che ci spinge ad acquistare determinate cose è soprattutto una, l'invidia del pene. Quella vende sempre. Dimenticavo, l'auto ha quattro ruote motrici, cerchi e ruote da... Perdonatemi, non lo so da quanto siano e non mi interessa neanche saperlo. Un pulmino. Potevate farla gialla. Era più indicato.